Promossa dalla chiesa prepositurale di San Giuliano di Albino e dai fratti Cappuccini, si tiene la decima edizione di elevazioni musicali che si tengono presso appunto la parrocchia di Albino e presso i fratti Cappuccini. Con noi abbiamo il direttore artistico, Cavalier Gianluigi Carrara, al quale chiediamo di indicare gli appuntamenti dei concerti. Benissimo, grazie. Il primo appuntamento è sabato 3 novembre, inizio alle ore 21 presso la chiesa di San Bartolomeo in Albino, chiesa del XV secolo. Diciamo che ci sarà l'orchestra di chitarre e mandolini del complesso Estudiantina. In questo caso commemoreremo il 110 anniversario della nascita e il 30esimo della morte del dottor Guido Perani, medico chirurgo e direttore dell'infermeria Oneger di Albino. Poi il successivo appuntamento è fissato per sabato 10 novembre, sempre alle ore 21, presso la chiesa dei fratti Cappuccini di Albino, nella manifestazione del 400esimo anniversario del loro insediamento nella città di Albino. Il concerto sarà un concerto di pianoforte a quattro mani eseguito da due giamelli, Daniele e Davide Trivella. Inoltre, alla commemorazione del 400esimo della fondazione del convento dei fratti Cappuccini, sarà ricordato la morte del quinto anniversario di padre Ruffino Carrara. Il terzo concerto si terrà sabato 17 novembre, sempre alle ore 21, presso la chiesa della Concezione, detta anche chiesa del Lupo, sempre in Albino. Il concerto sarà tenuto da giovani musicisti di fama nazionale. Due pianoforte a clarinetto e poi la seconda parte violino solo. Gli esecutori sono Elena e Michele Carrara e al violino Roberto Annoldi. Questo per commemorare il 140esimo della nascita e il 60esimo della morte del professor Gioele Solari. Il quarto avvenimento, sempre di sabato, sarà il 24 novembre, sempre alle ore 21, presso la chiesa prepositurale di San Giuliano Marti ad Albino, concerto d'organo tenuto da Marco Cortinovis per il 140esimo della nascita di Don Cristoforo Rossi, fondatore dell'oratorio di Albino. Il quinto concerto, sempre di sabato, sabato 1 dicembre, sempre alle ore 21, si terrà di nuovo nella chiesa di San Bartolomeo del XV secolo ad Albino e sarà eseguito recitazione e chitarra da Enrica Manni, Gabriele La Terza e Mario Rota, ovvero il programma sarà basato su recitazione e accompagnata da chitarra. Per il sesto concerto si terrà di nuovo il di sabato 15 dicembre, presso la chiesa di San Bartolomeo di Albino. Il concerto è un concerto straordinario e lo eseguirà Classic Jets Quartet, praticamente arraggiamento di musica dei Beatles. Questo è il ricordo di Vedovati Vittorio e di Signori Mario. Ecco che qui siamo giunti con il sesto concerto, alla fine di questa manifestazione, la quale praticamente ha scopo benefico di accogliere fondi, che poi man mano saranno scritti su ogni concerto. L'ingresso è naturalmente gratuito e per chi arriva in macchina non deve preoccuparsi perché a ogni concerto c'è il parcheggio gratuito a non più di 50 metri. Grazie a tutti! Grazie a tutti.